Siamo con la Presidente Gianna Infante, la Presidente della Croce Rossa Italiana, Comitato Agropoli e del Cilento. Ci troviamo in Viale Lombardia, presso la palestra della Croce Rossa, per mostrarvi il nuovo punto di vaccinazione che sarà operativo dal 14 aprile. L'esigenza è quella di vaccinare più persone possibile. Per uscire da questa pandemia, da questa tragedia, se vogliamo dare questa definizione, dobbiamo vaccinare più possibile. Quindi, grazie alla determinazione del Sindaco e del responsabile dell'USC, il dottor Cicciarell, abbiamo creato un gruppo di lavoro e partiremo in pieno ritmo. Come si svolgeranno le vaccinazioni presso la palestra della Croce Rossa? L'accesso avverrà da Via Taverne, ci sarà a disposizione il parcheggio del Cineteatro, quindi si attraverserà la strada dove c'è il cancello di accesso al parco pubblico. Si faranno pochi passi e si accede alla palestra trasformata in centro vaccinale. All'interno ci saranno quattro gazebi che ospiteranno medici e infermieri per la somministrazione del vaccino. Ci sarà un primo incontro, quindi un'accettazione, quindi con dei box di accettazione all'entrata. Per coloro che non hanno la possibilità di camminare in modo autonomo, potranno accedere da Viale Lombardia in macchina e quindi la somministrazione avverrà dall'altra entrata. Quindi internamente ci sono i quattro gazebi che ospitano medici e infermieri. Ci sarà una zona pre-somministrazione, quindi l'accettazione. C'è la somministrazione del vaccino e poi il periodo di attesa, quindi 15 minuti post vaccino. Quindi tutto creato in sicurezza, sono state create delle aree per evitare assembramenti e confusione. Quindi il nostro obiettivo è quello di vaccinare il più possibile evitando assembramenti e quindi creando snellezza a tutto il processo di vaccinazione. Verremo supportati dalla logistica e curata dalla Croce Rossa e verremo supportati nell'espletare questo servizio dagli scout di Agropoli, dall'Avis. Stiamo contattando un po' tutte le associazioni di volontariato e questo lo voglio fermamente perché è un momento molto difficile ed è giusto che i volontari facciano parte di questa iniziativa. Voglio ringraziare, ripeto, il sindaco perché è stato fermamente voluto da lui. La sua determinazione ha fatto sì che si aprisse l'altro punto vaccinale ad Agropoli, importante per la nostra comunità. Ci apprestiamo chiaramente ad avere l'estate e quindi vorremmo lavorare in sicurezza ed accogliere i turisti in modo sereno e sicuro.